Accettereste l'aiuto del vostro farmacista, della vostra amica di infanzia o di quel gentile vicino che cucina sempre qualche biscotto in più per voi? Beh, forse dopo questo video ci penserete due volte prima di fidarvi di un buon samaritano, perché vi racconterò la storia di quattro persone insospettabili che dietro ai loro gesti altruisti lasciavano una scia di morte. Ora immaginate, gestite una farmacia con vostro marito che però si ammala gravemente, dovete prendervi cura di lui e per giunta siete anche anziana, quindi mettete un annuncio per cercare un aiutante. Si presenta un gentile dottore che oltre a farvi da assistente si offre anche di curare vostro marito. Che fate? Accettate? Beh, se avete accettato, mi dispiace. Siamo nella seconda metà del XIX secolo a Inglewood, vicino Chicago, e la signora Holton sta cercando un aiutante per la sua farmacia. Le si presenta il dottor Henry Howard Holmes, che forse non è proprio né dottore né Henry. Infatti, sia la laurea che il nome sono falsi. Il suo vero nome è Herman Webster Maggett e il suo sogno di diventare dottore si era infranto quando lo avevano espulso dall'università per frodi assicurative. Ma questo la signora Holton ovviamente non lo sa. Così assume il giovane, che non solo si dimostra un ottimo assistente, ma si offre anche di curare il marito malato di cancro. Che bravo ragazzo! Purtroppo il signor Holton muore e la moglie non si stupisce più di tanto. In fondo era già gravemente malato. Non immagina di certo che il giovane assistente gli abbia dato un aiutino a raggiungere prima il signore, avvelenandolo. Ma non è finita qui, perché le sventure dell'anziana sono appena iniziate. Non avendo più le energie e la voglia per portare avanti la farmacia, il premuroso Henry si offre di sollevare la povera donna da questo peso, gestendola al suo posto e garantendole in cambio un assegno mensile. La vedova gli cede l'attività, firmando così la sua condanna a morte. Non otterrà mai nessun pagamento e presto Holmes si disfa sia di lei che della figlia. Sì, la Holton aveva anche una figlia e Holmes fa credere che entrambe si siano trasferite in California. Le due donne non sono le sue prime vittime. Quando arriva alla farmacia, il sedicente medico aveva già fatto fuori due persone. Holmes è determinato non solo a uccidere, ma a realizzare un progetto di sterminio leggendario. L'uomo continua a svolgere il suo lavoro da farmacista modello. È estremamente competente, cordiale, premuroso, soprattutto con le donne. È anche molto abile nel vendere e incrementa i guadagni della farmacia inventando pozioni miracolose. Con questi introiti, più quelli del suo grande classico, le frodi assicurative, Holmes riesce a costruire un enorme edificio di tre piani, che gli serve da abitazione, farmacia, negozio e, soprattutto, hotel. L'edificio era talmente imponente da essere soprannominato il castello. Come previsto da Holmes, le stanze si riempiono di turisti venuti a vedere la grande esposizione di Chicago del 1892. E così, tra il 1892 e il 1894, il castello ospita un numero enorme di clienti di tutte le età, anche bambini. Non solo turisti, ma anche conoscenti, dipendenti, collaboratori, fidanzate di Holmes, gente che entra e gente che esce. Anzi no, entrano, ma non escono più. Perché Holmes ha progettato l'albergo come una trappola mortale, un labirinto da cui è impossibile uscire vivo. Le camere sono infatti collegate tra loro tramite passaggi segreti, muri scorrevoli, spioncini, porte blindate, stanze segrete, camere insonorizzate, scale e corridoi che finiscono contro un muro. In queste stanze trovano la morte centinaia di persone. Non solo visitatori sconosciuti, ma anche fidanzate, dipendenti e complici di Holmes. Una volta finito con le vittime, Holmes apre una botola nel pavimento tramite un comando e fa scivolare i corpi in cantina, dove si trova una piscina piena di acido per sciogliere i cadaveri. Oppure usa un forno crematorio nascosto in una stanza. Ma tutto questo non basta. Holmes, per avere il controllo totale, struttura tutte le camere per diventare vere e proprie camere a gas. Infatti le porte possono essere bloccate dall'esterno, i muri sono foderati di amianto, in modo che Holmes possa dare fuoco al gas diffuso nell'ambiente senza che la combustione si propaghi. Grazie a degli spioncini, Holmes guarda le sue vittime soffrire, disperarsi e infine morire. Un macabro spettacolo che lo eccita anche sessualmente. Ma non dimentichiamoci che Holmes si definisce dottore e ha una grande passione per gli esperimenti. Così perché non coltivare il proprio hobby sulle vittime? Ad esempio allungando loro le ossa? Vive o morte non ha importanza. Il dottore poi unisce l'utile al dilettevole. Infatti quando non si disfa dai cadaveri, vende i loro scheletri alle università di medicina, ricavandone un discreto gruzzoletto. Oltretutto spesso riesce a convincere le sue vittime a intestargli una polizza sulla vita, riscuotendola dopo la loro dipartita. Ma tutto ciò non basta a sostenere i costi elevati dell'hotel. Così Holmes finisce in bancarotta e vedendosi accerchiato dai suoi creditori, abbandona il castello per rifugiarsi altrove. Continua a spostarsi cambiando identità, tuffando e uccidendo fino al 1894. Quando viene arrestato è riconosciuto inizialmente colpevole di quattro omicidi e arriverà a confessarne circa 27. Nel castello degli orrori la polizia trova 150 scheletri, ma suppone che le vittime siano anche più di 200. Holmes nella sua biografia ne confessa 133, per poi dire che aveva aumentato la cifra per guadagnare più soldi dalla vendita del libro. Alla fine viene dichiarato colpevole di numerose frodi assicurative e di solo nove omicidi, che sono però sufficienti per condannarlo a morte per impiccagione. Harry Holmes, il 7 maggio del 1896, all'età di 34 anni, arriva al patipolo calmo e tranquillo. Ma la sua dipartita non sarà rapida e indolore. Il campio infatti non è stato preparato adeguatamente, il collo di Holmes non si spezza e il dottore soffre una lunga agonia, morendo per soffocamento dopo 15 minuti. Il castello di Holmes diventa un'attrattiva per gli abitanti, fino a quando un misterioso incendio lo radia al suolo completamente. E così si conclude la prima storia. Passiamo alla seconda. Siete una giovane donna dell'epoca vittoriana. Scoprite di essere incinta e il vostro amato prontamente si defila. Per la legge del tempo non è obbligato a mantenere il figlio illegittimo. E ora siete proprio nei guai. Sapete che nel momento in cui si verrà a sapere, porterete vergogna sulla vostra famiglia, che di conseguenza vi ripudierà. Non sarete più considerata una donna rispettabile e per questo non riuscirete neanche più a ottenere un lavoro onesto. Tutti vi volteranno le spalle e finirete a lavorare come prostituta o a mendicare per le strade. E a questo punto le aspettative di vita per voi e vostro figlio sono veramente basse. Ma forse non tutto è perduto. Una vostra cara amica vi parla di un'infermiera che sotto pagamento ospita le ragazze madri come voi fino al momento del parto. Dopodiché potrete tornare a casa vostra con la reputazione intatta. L'infermiera si prenderà cura del piccolo cercando nel frattempo una famiglia agiata e amorevole che lo adotti. Cosa fate? Accettate? Beh, forse stavolta andrà meglio. Oppure no. Siamo a Bristol, nell'Inghilterra vittoriana e l'infermiera si chiama Amelia Dyer. Una vedova con una figlia che nel 1869 ha deciso di lasciare il lavoro di infermiera per diventare un'allevatrice di bambini. Sì, non ho detto tutrice, ma proprio allevatrice di bambini. In quest'epoca, infatti, le case per bambini illegittimi sono chiamate baby farms, fattorie. Oggi le chiameremmo case famiglia. Ma credetemi se vi dico che al tempo il nome era veramente azzeccato visto come trattavano i bambini e la fine che spesso facevano. Ma la Dyer, in fondo, è un'infermiera ed è anche madre. Avrà una vocazione per aiutare il prossimo soprattutto se quel prossimo è un bambino. Ci si può fidare, insomma. Eh no. Anche questa volta la realtà non è come sembra. La Dyer, infatti, vede gli infanti puramente come fonte di reddito. In cambio della promessa di occuparsi dei figli che le famiglie vogliono dare via chiede una cifra in denaro e degli abiti adatti per il bambino. Ma come altre allevatrici di bambini capisce presto come incrementare i guadagni della sua attività. Per prima cosa, non spendendo un soldo per il mantenimento del bambino. E poi facendo spazio continuamente a nuovi pargoli. Il primo proposito porta di conseguenza all'avverarsi del secondo. Infatti, non nutrendolo il bambino sarebbe morto di fame facendo spazio ad un'altra fonte di guadagno. Il delitto è facile basta non fare nulla. In quegli anni poi le morti in culla sono frequenti anche quando le madri fanno tutto ciò che possono per salvaguardare la salute del figlio. I medici sono quindi abituati ad accertare decessi di infanti per morte naturale. Se poi il bambino appartiene a una classe sociale bassa la sua morte passa ancora più inosservata. D'altronde si sapeva che i bambini poveri avessero meno chance di sopravvivere. In questo modo la Dyer la fa franca per molto tempo. Fino a quando non si fa prendere un po' troppo la mano e per non aspettare il decesso per fame si mette lei stessa a strangolare i pargoli. Un numero così alto di bambini deceduti sotto le sue cure finalmente insospettisce il medico chiamato a registrare i decessi. Fu quindi arrestata nel 1879. E voi direte finalmente andrà in carcere il fine della storia e invece no perché non fu condannata per omicidio ma per negligenza per aver prestato scarsa attenzione ai bambini e averne quindi involontariamente provocato la morte. Passa sei mesi ai lavori forzati e ne esce devastata psicologicamente. Da questo momento va in depressione e inizia a consumare sempre più alcolici e sostanze oppiace. Tenta più volte il suicidio entra ed esce dagli ospedali psichiatrici però senza migliorare. Nonostante tutto continua a svolgere il suo lavoro di allevatrice di bambini ma facendosi più furba. Si trasferisce molto spesso da una città all'altra cambiando nome in modo da eludere le forze dell'ordine e i genitori dei bambini. Per non coinvolgere più i medici inizia a sbarazzarsi lei stessa dei corpi dei bambini gettandoli nel Tamigi e fu uno di questi corpi a tradirla quello della piccola Elena Fry che raffiore dal Tamigi in una carta da imballaggio su cui c'è l'indirizzo di una certa signora Thomas uno degli pseudonomi usati dalla Dyer una volta risalita l'allevatrice la polizia la sorveglia e ispeziona il suo appartamento entrando gli agenti vengono investiti da un forte odore di putrefazione trovano le prove del mercato di adozione e il nastro con cui strangolava i bambini successivamente dragano il Tamigi e trovano altri sei corpi anche se la stima delle vittime nei 20 anni della sua attività va dai 200 ai 400 bambini nel 1896 viene condannata a morte in soli 4 minuti e mezzo le sue ultime parole prima di morire impiccata sono non ho nulla da dire continuiamo con un'altra storia immaginate state percorrendo in bicicletta una lunga strada isolata e all'improvviso forate una gomma una vera disdetta visto che intorno a voi non c'è nulla e sta anche facendo buio ma un momento più avanti scorgete le luci accese di una casa bussate alla porta in cerca di aiuto e compare un uomo che vi invita a entrare che fate? accettate? beh a questo punto non credo che ci entrerete a meno che non abbiate l'istinto di sopravvivenza dei protagonisti dei film horror in tal caso questa volta siamo in Italia a Nerola negli anni 40 del 900 l'uomo che vi ha aperto è Ernesto Picchioni abituato ad ospitare quei viandanti che accidentalmente bucano vicino a casa sua lungo la via Salaria il buon samaritano offre loro cibo vino un posto per la notte rassicurandoli che l'indomani li aiuterà a cambiare la gomma se non che all'indomani questi poveracci non ci arrivino mai Picchioni appena poteva gli sparava in salotto con il suo fucile oppure li colpiva alla testa con una mazza ferrata e se necessario li finiva con un coltello alla gola l'assassino portava via alla vittima tutto ciò che aveva soldi gioielli la bici e anche gli abiti poi la faceva a pezzi e una parte la dava da mangiare ai maiali e l'altra la seppelliva sotto l'orto di casa sua Picchioni andava avanti così per anni come penso che abbiate già capito era lui che provocava gli incidenti disseminando lungo la strada chiodi piegati ad arte per bucare le ruote delle bici poi lasciava apposta delle candele accese in casa così che fossero l'unica cosa visibile di notte dagli sventurati in cerca di aiuto Picchioni è disoccupato passa le sue giornate senza far nulla tranne che giocare ai dadi frequentare bische clandestine e ubriacarsi nelle osterie casa sua è un casolare fatiscente e non è nemmeno sua ci vive abusivamente ed è riuscito ad allontanare il proprietario del fondo sul quale abita col peddolo con una pietra per questo è stato condannato a scontare alcuni mesi di carcere se non che poi abbia continuato a vivere in quella casa insieme alla sua famiglia sì quest'uomo è marito e padre un pessimo marito e un pessimo padre che picchiava e insultava la famiglia minacciando la moglie e i figli di morte nel caso avessero parlato degli omicidi ma sembra che sia stata proprio la paura di finire sotto l'orto di casa insieme ai figli a spingere la moglie a raccontare tutto ai carabinieri nel terreno intorno a casa vennero trovati quattro cadaveri alcuni cani uccisi e dei resti di biciclette smontate anche nel resto del paese vennero trovati due cadaveri ma per questi non venne provato il collegamento con picchioni l'uomo viene condannato a due ergastoli e 26 anni di prigione e dopo aver tentato di aggredire papa Giovanni XXIII durante una visita in carcere venne trasferito nel carcere di massima sicurezza di Porto Azzurro nell'isola d'Elba dove muore a 61 anni a causa di un infarto non ricevette mai nessuna visita dai parenti anche perché disse che se li avesse visti li avrebbe uccisi ma c'è un litofine per le sue figlie Gabriella e Carolina che dopo l'arresto del padre vengono adottate dall'imprenditore Robert Fitzhoucher che darà loro in eredità due milioni di dollari ma non è finita qui siamo giunti all'ultima storia siete una donna non più giovane che conduce una vita noiosa e solitaria in un piccolo paese una vostra amica si offre di aiutarvi a cambiare vita ha già pronto per voi un marito e un impiego in un'altra città che fate? accettate? ebbene la vostra gentile amica è Leonardo Cianciulli una donna ben voluta e stimata da tutti i vostri compaesani di correggio una persona affidabile e una madre esemplare la Cianciulli è molto affabile e ospitale accoglie le persone in casa sua intrattenendole con aneddoti offrendo loro dolci e saponette fatti da lei sono omaggi davvero speciali fatti con una ricetta segreta che comprende il sangue e i corpi delle sue vittime infatti la Cianciulli fa fuori tre sue amiche e poi le usa come ingredienti per dolci e saponette da regalare ai conoscenti le vittime sono donne sole e non più giovani insoddisfatte della routine di paese a cui la Cianciulli promette un matrimonio e un impiego in un'altra città tramite dei suoi contatti riesce a convincerle a firmare una delega per gestire i loro beni e fa scrivere loro delle lettere che rassicurino i familiari della loro assenza poi le uccide a colpi di ascia quando iniziano a diffondersi le voci della scomparsa di tre donne i sospetti ricadono subito sulla Cianciulli che aveva intrattenuto rapporti di amicizia con tutte e tre le donne alla fine la Cianciulli confessa di aver ucciso le sue amiche e anche di aver distrutto i loro corpi facendoli bollire in un pentolone pieno di soda caustica a cui avrebbe aggiunto allume di rocca e pece greca per creare delle saponette mischia inoltre il sangue delle vittime a latte e cioccolato per creare dei biscotti e quello che rimane lo disperde nel pozzo nero i biscotti non solo li offre ai suoi ospiti ma li mangia lei stessa e li dà da mangiare ai suoi figli figli che la Cianciulli afferma siano il motivo degli omicidi afferma infatti di aver ucciso non per denaro ma per salvare loro la vita e dietro questa affermazione c'è una storia incredibile la Cianciulli da giovane riceve una maledizione e una profezia alle quali lei darà molto peso la maledizione la riceve dalla madre che era contraria al matrimonio della figlia con un uomo che non fosse quello propinato dalla famiglia i genitori infatti vogliono maritarla a un cugino come spesso si faceva all'epoca ma la Cianciulli si rifiuta così alla vigilia del matrimonio la madre le augura una vita piena di sofferenze la profezia invece la riceve anni prima da una zingara le disse che si sarebbe sposata ma che tutti i suoi figli sarebbero morti la maledizione e la premonizione sembrano avverarsi infatti secondo il memoriale della Cianciulli alla donna muoiono 13 figli 3 aborti spontanei e 10 bimbi ispirati nella culla la donna allora si rivolge ad una maga locale e dopo il suo intervento riuscirà a portare a termine la prima e poi altre 3 gravidanze capite quindi perché la Cianciulli creda profondamente in tutto ciò che è esoterico inizia a studiare magia chiromanzia astrologia e altre materie per imparare a neutralizzare i sortilegi e proteggere i suoi 4 figli tutto procede tranquillamente finché non scoppia la seconda guerra mondiale e il figlio maggiore corre il rischio di essere chiamato al fronte la Cianciulli è disperata pensa di poter ricorrere alla magia per proteggere il figlio forse all'inizio non sa in che modo ma sembra che l'idea l'abbia avuta quando ha sognato la madre la quale le chiedeva vite umane innocenti in cambio di quelle dei figli decide così di compiere sacrifici umani in cambio della vita del figlio alla fine la Cianciulli viene ritenuta colpevole degli omicidi delle sue tre amiche del furto delle proprietà delle vittime e di vilipendi e dei cadaveri viene condannata a rimanere almeno per tre anni in un manicomio criminale e a 30 anni di reclusione ma di fatto entrerà nel manicomio e non ci uscirà più siamo giunti alla fine di questo video se vi state chiedendo come potessero sparire così tante persone senza che nessuno indagasse la risposta è nel periodo storico in cui sono avvenuti gli omicidi in primo luogo non c'erano le tecnologie i mezzi di tracciamento e le comunicazioni di oggi le persone riuscivano a spostarsi e cambiare identità facilmente ed era difficile accorgersene o seguire le loro tracce oltretutto nei periodi di guerra come nel caso della Cianciulli e di Picchioni si faceva meno caso alla sparizione di qualcuno fatemi sapere se vi piace questo format e se avete altri horror dietro alla storia da propormi lasciatemi un commento tenete presente che devono essere persone o associazioni in apparenza buone e caritatevoli ma che in realtà nascondevano del marcio vi aspetto su Instagram o qui al prossimo video ciao ciao